E' passata poco più di una settimana dalla fine del cancelletto Grande Fratello Vip, amatissimo reality che ha suscitato non poche polemiche, video, nell'edizione di quest'anno. Nell'ultima puntata abbiamo visto la showgirl cancelletta Aida e spica molto felice di incontrare il fidanzato imprenditore Jeppi Lama dopo la bufera sul presunto bacio tra lei e Jeremias Rodriguez. La showgirl, in molte interviste dopo l'uscita dalla casa, si era detta felice di aver ritrovato il fidanzato e anche molto innamorata tuttavia domani il settimanale chi lancerà l'incredibile scoop secondo il quale pare che Aida abbia ufficialmente lasciato Jeppi Lama. La fine della storiale scoop uscirà domani sul settimanale di Gossip Key, ma oggi siamo in grado di anticipare la notizia grazie ad una storia pubblicata su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha anche preso parte al backstage del Grande Fratello. A questo punto pare che Parpiglia abbia intervistato Aida e che la stessa showgirl abbia ammesso di aver lasciato il fidanzato, che tra l'altro l'aveva perdonata dopo il bacio con Jeremias Rodriguez. La showgirl, alla domanda su come andasse la storia con Jeppi, ha dichiarato che, dopo essere partita con lui per trascorrere due giorni di relax a Borgio, sono bastate solamente poche ore lontano dal caos, e da quel mondo fatto di selfie ed applausi per comprendere che qualcosa stava già cambiando. Non provavo più le stesse sensazioni che trovavo prima. Non riuscivo più a dirgli ti amo. Così la espica ammette di aver lasciato l'ennesimo fidanzato, previdendo ormai tutte quelle critiche che arriveranno ed ha anche aggiunto lo so, ho fallito anche questa volta. Oh, probabilmente, per la prima volta in vita mia voglio pensare di essermi salvata. Una situazione non facile la sua, che sicuramente comporterà qualche disaccordo, ma che dimostra a tutti gli effetti una scelta giusta. La storia con Gereniasimo e che a questo punto si chiedono se la espica abbia lasciato, vive, Jeppi perché decisa ad intraprendere una, storia con Gerenias Rodriguez. I due si sono soldati un bacio nella casa del grande fratello, senza per iniziare una vera e propria relazione. Ai da pochi giorni fa si era detta felice e innamorata di Jeppi a concelletto pomeriggio 5. La decisione di lasciare il fidanzato sembra un fulmine a ciel sereno. Tuttavia, la bellissima showgirl ha smentato.